Una puntata di cronache e commenti interamente dedicata alla seduta solenne che il Consiglio regionale ha voluto dedicare al giorno del ricordo proprio per non dimenticare la tragedia delle foibe e l'esodo Giuliano Dalmata. La giornata del ricordo istituita con legge il 10 di febbraio oggi è stata solennemente ricordata nel Consiglio regionale perché è una testimonianza fondamentale quello della memoria perché gli italiani sappiano quello che è accaduto che probabilmente 11.000 loro connazionali sono morti gettati in queste cavità carsiche dette foibe e che tutto questo avveniva nel momento in cui un esodo di 400.000 persone veniva a essere a costringere gli italiani a uscire da quelle terre. Pensate che fu proprio il piroscafo dal nome Toscana che rimane emblematico dell'esodo appunto di 400.000 persone dall'Istria, dalla Dalmazia. Io penso che sia molto importante ricordare che quella parte d'Italia, Dante ricorda proprio nella Divina Commedia, nel nono canto dell'inferno, l'Italia come un paese dalla Sicilia a Pola, sia oggi sempre caratterizzata in un'epoca di pace comunque dalla necessità di pensare agli italiani che furono costretti dopo la Seconda Guerra Mondiale a venire via e purtroppo se non venivano via le foibe erano la destinazione per coloro che entravano in conflitto. Penso che sia bello però ricordare anche i momenti in cui nei campi profughi che furono in modo molto rapido d'emergenza allestiti furono il presupposto di un'integrazione che poi nella gran parte dei casi vi è stata tra questi italiani che venivano dai confini nord orientali e devo dire che noi stiamo pensando a un museo proprio alla Terina, il più grande campo profughi Istria-Dalmat che vi sia nella nostra Toscana, come il nostro pensiero a quello che fu come accoglienza Calambrone, naturalmente appunto la Terina che ho citato, ma anche le presenze nelle varie città toscane. Stamani un quotidiano riferiva dei mille profughi che si integrarono a Livorno. Il 10 febbraio perché proprio il 10 febbraio di 75 anni fa fu firmato l'accordo, il trattato di pace tra l'Italia e le altre forze alleate che poneva fine alla guerra. Questo è il motivo per cui si ricordano la tragedia, i crimini, gli orrori che tanti italiani subirono in quegli anni e le atrocità della guerra, l'odio che ha segnato il Novecento non può passare inosservato, non ci si può voltare dall'altra parte. C'è chi continua a dire e vale per la Shoah, ma vale anche per le foibe che tutto questo non è mai accaduto. Ecco, io penso che un'istituzione come la nostra non debba voltarsi dall'altra parte, debba ricordare perché quello che è accaduto non accada mai più. Io prendo in prestito le parole del Presidente Mattarella che lo scorso anno insieme al Presidente sloveno, mano nella mano la potenza di quel gesto, mano nella mano ci ha mandato un messaggio forte che le sofferenze, i lutti, lo sradicamento sociale e culturale che avvenne in quel tempo non può essere dimenticato e oggi qui faremo in Consiglio regionale esattamente questo, perché la memoria, il ricordo servono a fare in modo che quello che è accaduto non accada mai più. In aula centrale la relazione di Guido Giacometti, referente per la Toscana dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. All'interno della seduta è intervenuto anche il giornalista Tonica Puozzo. Capire cosa è successo, gli scontri tra i vari nazionalismi, mi ha colpito che non mi pare un paio d'anni fa la Bulgaria ha detto di no, perché ogni Stato europeo ha il diritto di veto per entrare nella comunità di altri paesi, ha detto di no alla Macedonia, perché per la Bulgaria il Macedone non è una lingua, ma è solo un dialetto bulgaro e poi all'interno c'hanno una zona di cosiddetti ridentisti che vorrebbero staccarsi a bulgari. Quindi questi problemi sotto traccia possono sempre venire finché si darà una versione nazionalista. i miei nonni che facessero, il mio nonno in particolare un servizio militare con uno di lingua madre croata o ungherese, era in essenziale. Loro sono andati a scuole italiane, erano di lingua italiana, ma non è che sentissero il bisogno, anzi devo dire che quando è arrivata l'Italia, immaginate adesso se il canton ticino di lingua madre italiana venisse annesso all'Italia, cosa penserebbe uno abituato a quello che dicono essere l'organizzazione svizzera e si trovasse nell'organizzazione italiana. I problemi che deve risolvere Draghi dal punto di vista organizzativo c'erano anche negli anni venti quando è arrivata l'Italia. Per dire un aneddoto, che mi hanno raccontato un sacco di volte i miei, mio bisnonno sbagliò a pagare le tasse, pagò più del dovuto. Allora scrisse a dove era l'agenzia delle entrate, che era a Pisino nel centro dell'Istria. Ecco, da quando imbucò la lettera a quando ebbe i soldi in mano, passavano 15 giorni e quelli che me le raccontavano queste cose finivano sempre a dire e poi se veniu dall'Italia, me lo dicevano in dialetto. Giornata del ricordo, una giornata importante in cui il Consiglio regionale si ferma e prova in termini istituzionali a fare del ricordo di quello che è successo nelle foibe, un momento di unità non soltanto della regione toscana ma del nostro Stato. Sono quelle giornate importanti, fondamentali che consentono di stringersi intorno al ricordo di tante vittime, a un sacrificio che è costato la vita a tante persone, in gran parte dei casi, innocenti e questo deve portare una grande riflessione. Soltanto così si ricostruiscono le basi, le fondamenta dell'unità nazionale e credo che questo sia importante ogni anno, che il Consiglio regionale si fermi e possa ricordare quanto accaduto. Io credo che, seppur riconosciuta tardivamente la vicenda dei nostri connazionali, istriani, dalmati, che hanno vissuto il dramma delle foibe, sia un segno di civiltà, come ha ricordato anche il nostro Presidente della Repubblica. Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di preservare quella che è una verità storica, quella di una tragedia che, al pari dell'Olocausto, ha segnato la storia del Novecento e che appunto richiama tutti quanti noi a non abbassare la guardia su vicende che purtroppo hanno segnato tragicamente il nostro secolo. L'importanza di ricordare il sacrificio dei 300.000 esuli che, al termine della Seconda Guerra Mondiale, furono costretti da un giorno all'altro ad abbandonare le proprie case, le proprie terre natie, i propri effetti e con una valigia di cartone dover partire alla volta dell'Italia per non finire trucidati dalle milizie partigiane titine, credo sia sempre più un dovere. Dispiace notare purtroppo che ancora evidentemente il nostro Paese, nonostante dei gesti bellissimi, li ricordava oggi il Presidente Mazzeo, ricordava per esempio il Presidente della Repubblica Mattarella che mano nella mano con il Presidente della Repubblica Slovena lo scorso anno vanno a rendere omaggio ai caduti sulla foiba di Vassovizza, nonostante questi simboli che le istituzioni continuano a regalarci, purtroppo il nostro Paese non è pronto a celebrare questo giorno. Ci sono ancora in tutte le città d'Italia, da nord a sud, convegni negazionisti, professori, docenti universitari, rettori, e in Toscana non a caso sottolineo la parola rettori, di università che ancora continuano a dire che quei crimini non sono mai stati perpetrati o peggio, li derubricano a una mera ritorsione legandoli chissà come, chissà perché, al periodo fascista. Con quell'eccidio, con quello sterminio non sono stati uccisi qualche fascista, sono stati uccisi decine di migliaia di cittadini italiani che col fascismo non avevano niente a che vedere, anzi spesso erano stati anche perseguitati dai regimi nazista. Il giorno del ricordo, così come la giornata della memoria, ci invitano alla riflessione di quelle che sono state delle pagine dolorose, delle tragedie come l'olocausto Auschwitz e in questo caso quello che è stata la pagina delle foibe per l'Istria e per troppi italiani. Noi dobbiamo concretizzare il ricordo. Ecco perché sono particolarmente contento di aver dato il mio contributo nell'indicare il nome delle referenze per la Toscana dell'Associazione Nazionale Giuliano Dalmata, l'ingegner Giacometti, che ha ricordato bene quello che è stato il dramma delle foibe, il dramma di Jesodi, il dramma di quella che è tutta è stato veramente un momento doloroso per l'Istria e per questa parte che era d'Italia. Non dobbiamo dimenticarci, dobbiamo portare avanti il ricordo in modo concreto, ma soprattutto cercare di rendere, di fare sì che queste pagine possano essere veramente di tutti, perché troppo spesso ci dividiamo ancora su basi ideologiche e noi dobbiamo essere contro, fermamente contro chi fa del revisionismo, perché così come per la memoria anche per il ricordo devono essere delle giornate di tutti. Leggo a volte commenti, ma anche comunicati che non mi piacciono per niente e questo lo devo dire con molta chiarezza. L'importanza è indiscutibile, anche perché per troppo tempo questa storia, questo momento doloroso è stato oscurato, dimenticato, ignorato e anche quando è stata istituita la giornata del ricordo poi è stato un momento più di contrapposizione che di riflessione su quanto accaduto. L'importante sarebbe non dimenticare mai di nutrire umana pietà, cosa che è sempre più difficile in questa società. Oggi abbiamo ascoltato parole non di contrapposizione, ma di cordoglio, di sincero dolore e partecipazione e questo mi ha fatto veramente molto piacere, perché anche nelle mie precedenti esperienze istituzionali non sempre è stato così. Quindi sono contenta che finalmente si arrivi a una celebrazione molto più pacata e sentita come deve essere. Una giornata importantissima perché non era scontato fino a pochi anni fa, non era scontato in Toscana, per tanti versi non era scontato nemmeno oggi perché assistiamo a troppe manifestazioni che in qualche modo vorrebbero ancora mettere in dubbio o negare l'importanza di ricordare la tragedia dei fratelli d'Italia vittime delle foibe, quelle migliaia di donne, di uomini, di bambini, di ragazze che furono violentate, stuprate, uccise, infoibate, non per altro se non per il fatto che erano italiane, che erano italiani e per questo motivo era sufficiente appunto dargli la morte atroce come gli fu data appunto nelle foibe carsiche a pochi centinaia di chilometri anche da qui da noi. Quindi è importante ricordarlo, è importante appunto avere una giornata nella quale si ricorda la tragedia delle foibe e si ricordano i fratelli d'Italia martiri delle foibe. È importante la giornata odierna come ogni giornata di celebrazione a partire dal giorno della memoria, nella giornata nelle quali si compie una riflessione attenta su quella che è stata la storia recente, sui pericoli che se dimenticata possono incorrere anche nell'attualità che viviamo. In particolare oggi devo dire abbiamo assistito a due interventi molto alti, molto interessanti di Toni Capozzo, di Guido Giacometti e con le conclusioni del Presidente Gianni che hanno dato anche una ricostruzione storica interessante e comunque la lezione di fondo che è quella per cui in un periodo storico ben individuato dilagò questo virus del nazionalismo, come è stato ben definito e ben descritto, che portò alla persecuzione delle minoranze. Questo ci dice ancora oggi che le discriminazioni devono essere combattute. Sappiamo che ancora oggi in tante parti del mondo questi fenomeni, queste operazioni assolutamente da contrastare comunque avvengono e quindi questo ci richiama anche una responsabilità quotidiana che sta sulle spalle di ciascuno di noi e questa è l'importanza di questi momenti nei quali viviamo il monito solenne del ruolo che ricopriamo ma anche della responsabilità che portiamo come cittadini nella nostra vita quotidiana. È tutto, questa era la nostra ultima intervista, grazie per la cortesia e attenzione, cronache e commenti ritorna la prossima settimana.